Allora, allora ragazzi, eccoci qua, eccoci qua, spero che stia funzionando tutto come si deve, sembrerebbe di sì, non mi fido molto di la verità Allora, scusate veramente il ritardo ragazzi, scusate Dunque, possiamo cominciare senza più problemi Quindi, salve a tutti amici videoludici e ben ritrovati per questa nuova live su corte di videogiochi e corse videoludica, ancora una volta con Aritim Rieccoci qua su Resident Evil Village Allora, piccola novità, eccola qua, mi è arrivata ragazzi, prima del previsto, l'Elgato Ho acquistato un Elgato HD60S Plus, ma sto avendo dei problemi tecnici Non è che funzioni bene come mi aspettavo, soprattutto con OBS, cioè in sé la scheda, diciamo che a volte si attiva, non si attiva Su OBS in questo momento sembra andare bene, ma ho avuto parecchi, parecchi problemi col collegamento Oltre al fatto che in questo momento per poter registrare con OBS tramite la scheda di acquisizione Perché sto acquisendo finalmente le immagini direttamente da PS4 Pro per l'appunto E' bello, questo è bello, meno male Non funziona come ho visto nei vari tutorial Cioè, quel sistema che hanno detto nei tutorial a me non compare Non funziona, anzi addirittura OBS va giù Smette di funzionare Perché praticamente durante i vari tutorial ho notato che sostanzialmente Quello che chiedeva di fare per poter registrare Anzi streamare, più che registrare, streamare tramite la scheda di acquisizione su OBS Sarebbe quella di acquisire praticamente l'immagine tramite un'acquisizione Anzi ve lo dico subito, aspettate Se vado ad aggiungi, dovrei, su OBS, dovrei aggiungere dispositivo cattura video Peccato che quando vado a fare questa cosa Il dispositivo e il gatto, cioè il gatto non mi viene catturata Per niente lo schermo rimane nero E addirittura dopo un po' crasha tutto E il gatto addirittura anche smetteva di funzionare Non riusciva a farlo partire Ora non so se è una cosa dovuta al fatto che Che ne so, sono lì che è acceso Sto lì a smanettare quelle cose Impostazioni qua, cose varie là E smette in automatico di funzionare perché non è attiva Cioè, siccome io non la sto utilizzando attivamente Ma è semplicemente accesa E sto cercando di farla funzionare In automatico perde il segnale Probabilmente dovrò rivedere un paio di cose In questo momento per poter registrare Dalla scheda di acquisizione Praticamente sto utilizzando Acquisisci immagine finestra Di un dispositivo qualunque Perché ecco, cattura finestra Io sto utilizzando il sistema di cattura finestra E ho anche dovuto reimpostare le immagini Visto che purtroppo se l'immagine fosse di default Voi vedreste semplicemente Proprio la barra di applicazione Della scheda di acquisizione Che per l'appunto non mi fa neanche schermo intero In realtà la scheda di acquisizione Mi registra sì l'immagine Ma ha queste barre Piccole barre laterali E addirittura si vede La barra di applicazione in fondo È un pochettino fastidiosa come cosa per me Voi non doveste vederla ovviamente Perché appunto ho reimpostato le cose Però non dico che ho strecciato Ho leggermente allargato l'immagine In modo che i bordi non si vedessero Tranne purtroppo il bordo in cima Quello si vede È un leggero bordo nero Io cercherò di migliorare in futuro Cercherò di vedere il motivo per cui non funziona Farò delle ricerche Ho iniziato anche tardissimo Sono già le 16.25 Mezz'ora buona ce la siamo già bruciata ragazzi Ed è un po' fastidiosa come cosa Lo so Ma siccome mi è arrivata prima del previsto Perché l'ho acquistata su Amazon ovviamente Ho fatto un'iscrizione ad Amazon Prime gratuita Perché ce l'ho gratis per 30 giorni E ho potuto ordinarla in un solo giorno Io ieri pomeriggio Anche abbastanza sul tardi Ho fatto l'ordine E l'ho ricevuta stamattina l'elgato In poco più di una giornata neanche Quindi è stato fantastico E ho pensato Ok O registro per oggi ancora il terzo episodio Normalmente E faccio i miei esperimenti Per capire come funziona Oppure ci provo e vedo subito Visto che io credo nell'approccio Pratico più sbrigativo Eccoci qua Allora Ora come ora dovrebbe essere tutto a posto E spero di sì ragazzi Se salta qualcosa Vedrò di riniziare il gioco Ritorno al punto in cui ci siamo fermati Cancellerò questa live E la rifarò Se fosse Ora vediamo un po' come va Io spero che vada tutto per il meglio Perché sinceramente Cavoli Era totalmente fomentato Ho detto finalmente ho l'elgato Finalmente ho l'elgato Bam Succede qualcosa Che a livello tecnico Non funziona tanto bene Uffa Uffa e poi uffa Ma veramente Allora Allora Forza Senza perdere un ulteriore tempo Cominciamo Facciamo carica partita Comunque Di base Ora dovreste vedere tutto Molto ma molto meglio Io ovviamente sto catturando le immagini da schermo Direttamente dalla playstation Questa volta Quindi voi dovreste vedere tutto perfettamente Senza problemi Anzi Vediamo un po' la luminosità in generale Qui è tutto a posto Mi sembra Lo sfondo Non c'è bisogno di metterlo Penso Stavolta ho messo la webcam E' a posto Sto registrando dal l'elgato Assolutamente L'overlay della live Ce l'è C'è Chat attivata Avviso dell'iscrizione Perfetta Ok Va bene Dovrebbe essere tutto Bello A posto Ora Luminosità Vediamo un po' Qui dice Il motivo sia appena visibile E infatti Tenendolo di base Dovrebbe andare bene così Lo aumento un pochettino Il chiaro Mettiamolo in questa maniera Qui aumento un pochettino di più Il motivo deve essere appena visibile Ma preferisco che sia leggermente più chiaro In questa maniera Toh Facciamo così Vai Ora dovrebbe essere Più che nitido Per voi E anche per me Quindi carichiamo L'ultimo salvataggio Vai Proviamoci ragazzi Proviamo veramente E vediamo un po' Come va la cosa Io Mi auguro che Allora Intanto Sembra funzionare perfettamente Per quanto riguarda COBS Sta andando È verde la luce Quindi vuol dire Sta registrando Sto utilizzando Il sistema Di scheda E il gato Quindi sta funzionando Perfettamente Ok Se questo è il massimo Che ora come ora Posso ottenere Va bene Meglio di niente Dai Forza Dovrò semplicemente Essendo la mia prima volta Ragazzi È chiaro che ci possono essere Dei problemi Ma Eppure Da Da quello che ho visto Dalle varie registrazioni In giro I tutorial Il problema di base È di motivazione tecnica Più che altro Cioè L'installazione è stata facilissima Anzi In realtà Non c'è neanche Da installare qualcosa Forse c'è Un leggero ritardo Nell'input Ma no Non mi sembra Stava dormendo Oh L'immagine È nettamente Migliore Si vede che non sto Utilizzando più Il sistema Remote Play Effettivamente Ora È nitida e pulita Allora 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Questa la giriamo E la mettiamo Qua No Mi tocca Mi tocca Fare così Prendere Il grimaldello Lo spostiamo Qua Questo lo prendiamo E lo mettiamo Qui Questo lo giriamo In questa maniera E lo mettiamo qua Anche questi Li giriamo Così E voilà Allora Entra Ma che vuoi Vattene Provo a sparargli No 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 Ciao Mi hai visto Vattene Vattene Sei un po' Risentita Per il fatto Che gli abbiamo Ucciso le figlie Purtroppo Oh no 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 Non voglio ricominciare Ho sbagliato io A appicciare il tasto Allora Vediamo un po' Dove eravamo rimasti Mi serve la mappa Devo capire dove Dobbiamo andare Dunque Qui A quanto pare Abbiamo ancora Nel cortile Qualcosa da scoprire Intanto Queste edifici Area sotterranea Villaggio Edifici Allora Primo piano Dobbiamo tornare A Ecco qua Sì Sala dell'opera Ragazzi Abbiamo da sbloccare Il grimaldello Lì Dobbiamo tornare Alla sala dell'opera Quindi pronti Vai Allora Lei è là Via Prendiamo la strada Laterale Perfetto Perfetto così Vai Dobbiamo uscire Nel cortile È abbastanza facile Ingarnarla Fortunatamente Qui vorrei sapere Cos'è che ancora Dobbiamo sbloccare Sinceramente Non ne ho proprio idea Allora Sì Dovremmo Essere di qua Oppure no Ho sbagliato Fatemi vedere Mi sa che ho sbagliato La via È infatti No Dall'altra parte Il grimaldello Dovremmo usarlo Qui Perfetto Vai Cosa abbiamo Ottimi Ottimo Ottimo Fucile di precisione Per sei Altre munizioni Va benissimo Così Dunque Vediamo un po' Ancora è rosso Potrebbe essere Che ci sono Oggetti Da scoprire In giro Tipo tesori Qualcosa del genere È altamente probabile Ma chissà dove Chissà dove Si nascondono I tesori Aspetta Vediamo se troviamo Qualcosa di luccicante Ragazzi Questo avevamo già letto Se non mi sbaglio Sì sì La documentazione Riguardante Le mosche Le mosche del sangue Letteralmente Qui mi dice che Ah no Ok No Allora qui sopra Non è rosso Di sopra sì però Qui sotto non è rosso Ma di sopra sì Quindi dobbiamo capire Dove potrebbe essere Nascosto un tesoro Forse Via 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 Dobbiamo andare Dall'altra parte Ok Dunque Vediamo un po' Qui niente Riproviamo a tornare Di sopra Da questa parte Ho visto il tesoro Dai forza Mi ha sentito eh No Aiuto 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 Filiamocela Comunque l'ho trovato E infatti È tutto blu Ottimo Ora Dobbiamo riuscire fuori C'è un piccolo problema Di lag Ma questo è proprio Interno al gioco Mi sa Perché se io per esempio Vedete Giro E c'è l'input In ritardo Per quanto riguarda Il movimento Del personaggio Della telecamera Non è perfetto Perfetto Effettivamente Ah ecco C'era questa Adesso Ancora rossa Quindi Dobbiamo ancora trovare No Via 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 Ci saranno ancora qualcosa Da far cadere a terra Molto probabilmente Allora Devo capire adesso Cosa dovevo fare Ah giusto Dobbiamo tornare sul tetto Ragazzi L'esplorazione La lasciamo per un'altra volta Dai Quindi da questa parte Torniamo all'ascensore Ottimo Saliamo ai piani di sopra Però non ho provato A vedere se si può andare Ancora più giù O ancora più su Proviamoci Anche se non credo Io credo che l'ascensore Ci guidi semplicemente Sopra e sotto In questa maniera Basta In queste due zone Ora proviamo a vedere Infatti l'interazione È obbligatoria Sì Ma Mi va verso il basso E basta Ok va bene Dunque 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 Io penso che sia comunque Una questione di impostazioni Devo scoprire il motivo Per cui non funziona Come vorrei In realtà Sto registrando Perfettamente Però sto registrando Tramite Cattura Finestra E non tramite Dispositivo di cattura video Cosa che dovrebbe fare Visto che Game Capture È questo Un dispositivo di cattura video Ma qualcosa Non funziona Come dovrebbe Penso che sia Una questione Di impostazioni Di qualcosa Che mi sfugge Purtroppo Proverò a cercare Tutti i tutorial possibili E sperare Che torni a funzionare Come dovrebbe Però ho avuto Parecchi problemi In tal senso Va bene Allora Sì Si sale qua Chissà qui Se ci sono dei tesori Nascosti O qualcosa del genere Sì Guardate un po' Sulla torre Ottimo Ma chissà quante altre Ce ne sono In giro Perché infatti È tutto rosso Io mi immagino Quanti tesori Mi sto lasciando alle spalle Più che altro Robetta appese Allora Lì no Qui c'è qualcosa Che luccica Osserviamo bene Una l'abbiamo trovata Per ora Non mi sembra Di vedere altro Mi dice Di andare Da questa parte Controlliamo Sempre attorno Ai muri Ok Ok Procediamo Aspetta C'era qualcosa Che luccicava O forse Era la mia impressione No Non mi sembra Che ci sia qualcosa Che luccichi Ok Ora mi compare Qualche Orribile mostro Perfetto Come stiamo messi È ancora tutto Tutto rosso Proprio Munizione Pistola Perfetto Qui Qualche tesoro No Niente È proprio Tutto rosso È chiaro come il sole Ragazzi Deve esserci Necessariamente Qualche Posto Nascosto Che ci è sfuggito Molto probabilmente Ma molto probabilmente Questi sono quelli Che abbiamo ucciso Ok I soldini Che abbiamo trovato In giro Quelli saranno Di qualche creatura Che abbiamo fatto fuori prima E allora Adesso Di qua Wow Abbiamo adesso Una carrucola E questa Ok Shortcut Ottimo Non parrebbe Nient'altro Qui Un'altra Maschera Ottimo Maschera Della furia Ora puoi uscire da qui Fatemi vedere Chiave Alsina Maschera Della furia Ma Ah Perché abbiamo Già Giusto L'ultima volta Abbiamo trovato Anche la maschera Della gioia Quindi potevo Già mettere Una maschera Ma così Almeno Adesso Torniamo indietro E proseguiamo Però qui Ah ok No Questo è blu Perfetto Forse abbiamo trovato Tutto invece Vediamo un po' Se scendiamo Sotto Nella parte iniziale Della torre Anzi Del tetto Ora è diventato blu Perché abbiamo raccolto La maschera Che era l'unico oggetto Rimasto Forse No Al fatto Anzi Vabbè Approfettiamone Io non ho alcuna fretta Anzi Esploriamo per bene Sono troppo curioso Di vedere Se Potrebbe esserci Qualche tesoro Da qualche parte Qualcosa che potremmo Aver lasciato E' rosso Dappertutto Poi Tra l'altro Che qui possa Che anche qui Possa esserci Qualcosa Questa è la manzarda Va bene Ma E' difficile capire Ok Questo non lo posso Distruggere Lì c'era la capra L'abbiamo già Fatta fuori Allora 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 Qui Qui non mi sembra Che ci sia nulla O almeno Non nulla Di visibile Quanto meno Non quello Comunque è bello Poter vedere L'immagine Nitida e pulita Senza quei problemi C'è sempre qualche Piccolo problema Di lag Ma magari Quello è proprio Devuto al fatto Che sto Streamando È un po' Pesante il tutto Anche e soprattutto A questa qualità Visiva E per quanto Catturi In maniera Perfetta Questo è il gatto Io non posso dirgli Nulla Forse c'è comunque Una piccola perdita Di qualità Più che altro Livello Di frame Ma può anche essere dovuto Semplicemente al fatto Che questa è la versione PS4 È la cross gen E comunque Devono patchare ancora Il gioco C'è stata solo Il patch Day one Ma tutto il resto Deve essere patchato ancora Devono migliorarlo A livello tecnico Probabilmente Ma hanno fatto comunque Un ottimo Cioè un egregio lavoro Per quanto riguarda Il cross gen Ok Qui non mi sembra Ci sia nulla Controlliamo Dappertutto Ogni angolo Che ci può venire In mente Difficile Da capire Sinceramente Parlando Aspetta No Non vedo niente Che brilla Qui Vediamo vediamo Non mi sembra Di vedere qualcosa Di luccicoso Quindi Da questa parte No Si è bloccato Accidenti Ragazzi Si è bloccata Si è bloccato Dannazione Mi si è bloccato E il gatto Vero? Ah Questo può essere Un bel problema Non funziona Tutto così bene Come mi aspettavo Io non credevo Che avrei avuto Questi problemi Io pensavo Wow Dai forse funziona Tutto egregiamente Perfettamente Invece no Il gatto Mi sta dando Non pochi problemi Ora Sta ancora streamando Vediamo un po' Se posso Il problema è che adesso Mi toccherà Ricominciare da capo Per forza Perché l'ultimo salvataggio È partito Non ho salvato nulla Fino adesso Quindi mi sa Ora io ci riprovo Vediamo un po' Come va E questa è un'enorme Live tecnica Ragazzi Purtroppo Ho dei gravi problemi Ci sono gravi Gravi problemucci Dannazione Dannazione Allora Eh già Vedete Ha perso il segnale Nessun segnale Speriamo ritorni presto Aspettiamo Aspettiamo Nessun segnale Dai forsa Torna Torna funzionale Forza Non vuoi funzionare Per me Un pochettino Dai su Su Torna a funzionare Allora Metto in acquisizione Tura grafica I window Proviamo così Che ne so Bleh Automatico Automatico Oppure no Aspetta Automatico Boh Non mi sembra Tornare Dice Nessun segnale Ma non ha senso Questa cosa Allora Proviamo a far così Ragazzi Aspettate Ora Stacco un attimo Lo chiudo Riprovo Vediamo un po' Gestione attività OBS funziona Va bene Riproviamo Riattaccarlo Ok Riavviamolo Vediamo un po' Attendere Ok Ho avviato Questo però Si è subito Ribloccato Perché Vedete Lo potete vedere Da soli Immagine Super Bloccata Questo può essere Un bel Problemuccio Riproviamo Di nuovo Stacco E riattacco Forse non è Una buona cosa Fare una cosa Così Ma Accidenti Ho più Gravi problemi Tecnici Che non mi Aspettavo Speravo Sarebbe stato Molto più facile La cosa Invece No Allora Attendere Il segnale Dovrebbe Ritornare A breve Ecco Allora Funzionare Sembra funzionare Catturalo Ok Tac Schermo intero Ecco Avete visto Infatti Quando non lo metto Schermo intero Che poi Schermo intero Non va proprio Schermo intero Vedete Si vedono Le applicazioni Di Elgato Ok Ecco fatto Comunque Mi sa ragazzi Che lo rigiocherò Cioè Ora Ora Lo facciamo così Ci sarà forse Un salvataggio Automatico Non salvo niente Noi lo giochiamo Facciamo così Una Live Di prova Generale Con elgato Diciamo No Non ricominciare Ecco fatto Siamo tornati Operativi Accidenti però La cosa devo dire Non mi piace per niente Speravo Non avrei pensato Che sarebbe stata così Problematica la cosa Attenzione qua Allora Qui l'avevamo già Preso L'oggetto In questione Eppure Qui mi dice Che è ancora Rosso Ragazzi Eppure Non riesco A capire Dove potrebbe Essere Un altro Oggetto Un altro Tesoro Da qualche parte Dai Dovrà pure Eserci Qui non parrebbe Però Allora Allora Qui niente C'è qualcosa Qui Forse Dai Qualcosina Che luccica Da qualche parte Allora Qui no Qui è blu Già E sotto Che è rossa Non capisco Dove Però Purtroppo E vabbè Dai Andiamo avanti Ragazzi Tanto ho detto Lo rigiocherò Cioè Devo prima capire Perché qualcosa Qualcosa è che non funziona Come dovrebbe Eccetera Eccetera E ora Sei ribloccata Di nuovo Non regge Forse è troppo pesante Le impostazioni Sono troppo pesanti Le impostazioni Di uscita Entrata Mettiamolo un pochino Al di sotto Ah Facciamo 5000 KB Invece che 6000 To Però Abbiamo riperso Il segnale Riproviamo L'importante è che OBS Non si chiuda Il problema Adesso è la scheda L'acquisizione Che non riesce A reggere Troppo peso Devo capire Le impostazioni Per bene Mi sa Molto probabilmente Riproviamo Ricolleghiamo Ci sembra tutto a posto Tutto a posto Eccetera Tutto collegato Certo Ti proviamo Attenere il segnale Ed ecco Ed ecco che è tornato Ed ecco che è tornato Ed ecco qui di nuovo E riproviamo Che strana Che strana cosa Che strana cosa Qui c'è qualcosa No va bene Va bene Allora scendiamo giù E andiamo E andiamo a posizionare Le maschere Forza Dai Per ora Proseguiamo in questa maniera Dovrò capire bene Le impostazioni Non mi sta piacendo In tal senso Mi preoccupa Anzi non poco Questa cosa No No Vattene Uh Liscio Vai 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 Corri 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 Allora Gioia Furia Entra Entra Il mercante Uff Uff Ah 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 Addio Vattene Allora Vendiamo quello che possiamo vendere Borzello del duca Questo si A posto Non dovrebbe esserci altro di vendibile Per quanto riguarda le risorse Su a posto così Ora come ora Per i potenziamenti Ricarica o cadenza di tiro Nessuno di due Ancora è lì Allora ragazzi Ho aperto la porta Vai Arrugginito Pianta verde Siamo fuori Oh alleluia Ora attenzione qua Lei ci può inseguire fino a qui Forse anche O forse no Lei rispetto alle sue figlie Può uscire all'esterno Questo è appurato L'abbiamo già visto Che lei può uscire all'esterno Qui è tutto blu Perfetto Torre Nord Ovest Non lo so Bisogna vedere C'è una rosa dei venti Con cui possiamo capire la posizione Parrebbe che non ci sia Una rosa dei venti Quindi non sappiamo Da che parte sta Una chiesa Controlliamo bene È tutto blu Quindi vuol dire Che non c'è nulla Da recuperare Tranne forse La possibilità di vedere Qualche Documento È possibile No No Ok Quindi tutto questo Per aprire un sarcofago Speciale Oh Il famoso pugnale Anche questo L'abbiamo visto Nei trailer Colpisci la Ah Funziona Su di te Eh Vabbè Addio al pugnale Ed ecco che si trasforma Ok Ok Vabbè Ma che cosa sei No Dolore Ma che devo fare Però Ma che devo fare Lei Aglio Sei spacciato Ok Ho colpito lei Suppongo Questo dovevo fare Vediamo un po' la mappa Di questa zona Ok Soluzione medica Munizione fucile Munizioni E guardate un po' Tutte munizioni Oh Là c'è un boss Ed ecco quello che ti serve Praticamente Ti stanno a dire Allora Mi conviene forse Provare a mettere Sì A equipaggiare questo Scelta rapida Questa Perfetto E adesso Proviamoci Buono 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 Aiuto Allora Qui devo essere un pochino Più al sicuro Credo Forse No Sì Sì Oh Cavoli Col cavolo Che sono al sicuro Non me l'aspettavo Questo eh Questo non me l'aspettavo Proprio Come faccio Però Ok Mamma mia È un po' Incavolata eh Ma giusto un po' Devo capire Come colpirla Praticamente Devo approfittare Quando attacca Vero? Attenzione Do sta Oh ok Proviamoci adesso Ok L'ho presa Ho capito Più o meno Forse come funziona Anche se Non è facile Facile Forse Forse questa Ah Quando vai a terra La posso colpire In qualche modo Particolare Mi sa Guardala come Scappa Ok 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 Attenzione Attenzione Ok Scappare Ritirarsi Ok Wow Distrugge tutto Proprio Non riesco Non riesco a prendere La mira Però Ok Ok Almeno lo colpisco Ogni tanto Dai Piano Presa Quando è in aria Bisogna colpirla Così Forza Proviamo Dall'altra parte Forza È lei Che bisogna colpire Questo mi ricorda Molto lo scontro Con Ramon Salazar Il castellano Mi ricorda molto Quello scontro In effetti Deve essere Una citazione Anche questa Perfetto Dov'è? Di qua Non capisco se Devo fare Del mare Anche alla creatura Ma non ne sono Molto certo Senziamente Attenzione Che succede? E questa è la ducacoles Ah Video Che succede? Ho superato una fase Mi sa Ho superato una fase Di gameplay Ma questo è proprio Un filmato Che devo fa? Che devo fa? Devo salire Devo salire Penso Salire basta Da come ora Non è Come on Don't be shy Step into the light Oh Allora ti faccio male Madonna mia Quanto è difficile Allora gli faccio dolore Attenzione 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 Madonna mia Non riesco a capire Come colpirla Ok Ok Ce l'ho fatta Mamma mia Maledetto Winters Queste boss fight Sono semplici Ma spettacolari Se questa è la citazione Del signore Dian Elling C'è Gandalf Che cade Col barrog Dai E adesso Come la faccio Fuori del tutto Ah già morta Allora Wow Alla fine Ci è andata bene Alla prima Dimitrescu Cristallizzata Yes Ethan L'ammazza Vampiri Ottimo Ottimo Vabbè Vada come va Ragazzi Penso che alla fine Mi terrò questa Capirò poi In futuro Come migliorare A livello tecnico Per il gatto Che cos'è? Aha Questo è qualcosa Di speciale L'audio è partito Per un attimo Flacone sporco Per un attimo Era partito L'audio Ok Spero di poter Tornare comunque A visitare il castello In qualche maniera Cerchiamo rose Allora Adesso Allora Qui c'è un ponte Elevatoio Chissà dove Porta questo Questo riporterà Verso L'esterno Del castello Forse Qui invece Controllo Insistentemente Perché Voglio essere Certo Di trovare cose Interagisci Ho finito L'oggetto Che mi era stato Richiesto Consegno Alla casa Col comignolo Rosso Lo troverai Dopo aver attraversato Le caverne Oltrepassato Le rovine Ho finito L'oggetto Che mi era stato Richiesto Consegno Alla casa Col comignolo Rosso La troverai Dopo aver attraversato Le caverne Allora Un salvataggio È d'obbligo Magari faccio Un secondo Salvataggio Per sicurezza Però vai Ok così Ho detto Ha finito L'oggetto Bisognerebbe capire Che tipo di oggetto Ok Qui Usciamo Un attimo Qua Posso Sparargli A questi Questo Dove porterà Secondo me Di qua Si continua Ergo Mi conviene Andare a vedere Qua dietro Qualunque cosa Possa esserci Allora Noi abbiamo letto Questo dall'altro Flacone sporco Con tenitore Di vetro C'è un emblema Con fiori E spade Troppo sporco Per guardare Al suo interno Troppo sporco Immagino Che debba Controllare C'è mia madre Che mi ha salutato Ragazzi Perché sta uscendo Quindi ho dovuto Un attimo Salutarla Allora 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 Vediamo un po' Qui Non sembra esserci Allora c'è un po' Se basta Lì è blu E quindi abbiamo Già trovato Tutti gli oggetti Polvere da sparo Ok Però questo Ci serve qualcosa Una manovella Sicuramente Serve qualcosa Appunto Una manovella Ma non possiamo Interagirvi In questo momento Non sembrano Eserci oggetti Rari O preziosi Quindi Torniamo dentro E allora Andiamo di qua Vai Qui è tutto blu Quindi non c'è Nulla da raccogliere È andata Senza ritorno Eh sì Non possiamo Tornare indietro Che cacchio sono Ah pesci Tornano i grossi pesci Proprio come il Sentivo il 4 Vabbè Ma che sono Salmoni Pesce Facciamo così Dai Oh l'ho beccato Però Preso Allora Leggiamoci un attimo Ah questi sono Proprio oggetti Tra l'altro Vedete Oggetti Dell'inventario Esamina Pesce Provenente Da questa regione Ingrediente comune Non può essere Mangiato crudo Ok Non che Avesse intenzione Di farlo Questa è la vecchia Sentite Questa cantilena Deve essere quella vecchia Mentre L'una di mezzanotte Si innalza Su ali nere Noi attendiamo L'estrema luce Però anche lei Ah ma davvero Eh infatti Come può un uomo Essere quasi morto L'emblemi dei quattro casati La casa di Mitrescu Benediento Heisenberg E Moreau Mi piace questo personaggio E scommetto che se ora andiamo lì Ah è chiusa proprio Ok Diamo un'occhiatina Chiave alata Questa cosa del bambino Vedete il simbolo di questo Di questo feto È dappertutto Alati All'angelo Con quelle Con le ali Come madre Miranda Io mi chiedo che cosa sia E la madre col bambino Mh Il bambino immagino sia Eh Nostra figlia E la madre era Mia Probabilmente Però è stata uccisa Quindi potrebbe essere qualcun altro Guardate un po' Il simbolo della Umbrella Che Infatti Eccola qua Il simbolo della Umbrella Ma cosa c'entra L'umbrella In tutto questo Mistero Dimitrescu Cristalizzata Eccola qua Ah però Resti cristalizzati di alzina Elegante E terrificante Mentre L'oggetto chiave Che abbiamo trovato Ecco qua Una chiave decorata E si è ribloccato di nuovo E accidentaccio Sta cosa è un po' fastidiosa Quello che mi preoccupa è Sì E farebbe lo stesso Anche se soltanto Registrassi un gioco Invece di farci la live Sta cosa Sinceramente parlando Ragazzi Mi dà alquanto fastidio Posso dirlo? Non riesco proprio A capirne il motivo Non ha senso questa cosa Perché faccia così E poi finora Stava andando bene Meno male che Non mi si è bloccato Durante Lo scontro col boss Ma non riesco a capire Cos'è che lo blocchi Qual è il problema Ok Siamo tornati Come al solito Però devo Rifare Ecco qua Ecco qui Siamo tornati Ora se a ogni live Mi tocca fare così Lo so Mi dispiace ragazzi Io cercherò di capire Qual è il problema E cercherò di risolverlo Quanto prima Per ora Cercate di avere Un po' di pazienza Stemma con ali Eccola qua Sbloccata Ok E qui possiamo procedere Vai Vediamo un po' L'obbici porta Questa volta Forse al villaggio Luogo della cerimonia Sì Siamo dall'altra parte Del villaggio Devo interagire con qualcosa Qui Che cosa Questo forse Questo simbolo Mi ricorda qualcosa Infatti è la ombrella Ma mi dice di interagirvi Proviamo un po' tutto Voglio Voglio vedere Ma non penso che nessuno Nessuno di questi Funziona Questo simbolo Mi ricorda qualcosa Là c'è la fabbrica Che dovrebbe essere Il territorio di Heisenberg Una delle poche cose Che so Ragazzi So che ogni zona Della mappa È di un Di uno dei quattro Grandi signori Per l'appunto Il castello Era di Dimitrescu La fabbrica di Heisenberg Poi c'è il cosiddetto Villaggio Forse dei pescatori O qualcosa del genere Non lo so In cui c'è quell'essere Abominevole Che sembra un mezzo Pesce Di nuovo Si riblocca Oh madonna ragazzi Io veramente Boh Non riesco a comprendere Questa cosa Mi dispiace Mi dispiace tanto Cioè dispiace più a me Sicuramente Che a voi Ma non riesco a capire Perché faccio così È un problema di collegamento Salta il collegamento Per qualche ragione A mera e condita Come ho detto Quando prima stavo tentando Di catturare Tramite dispositivo Cattura video OBS Forse crashava Addirittura Manco a dire che Rimanesse funzionante No Crashava proprio Riproviamo così Forse è troppo pesante Per la live E non ce la fa Ma mi sembra Ma mi sembra tanto strano Comunque Deve esserci Deve esserci qualcosa Che dà fastidio Comunque Questo è la nostra Prossima meta Vuoi stare a vedere Che qui Si devono accendere Anche questi O forse solo Per bellezza Beh Comunque Sì Procediamo Vediamo Vediamo Un po' Adesso Stiamo tornando Verso il villaggio Suppongo Cucidi di precisione Va bene Ecco qua E ora Come ora Inutile creare Roba No Perché Ragazzi Continua a bloccarmi Si continua A bloccare Sta cosa Non mi piace Sta cosa Non mi piace Neanche un po' E non capisco Il motivo Non c'ha senso Non regge Per qualche motivo Non riesce a reggere Qualcosa E Forse è troppo pesante A 1080x60fps Dovrei mettere Un po' Più basso Che ne so Quanto meno Riparte Se lo stacco E lo riattacco Subito Ma non fa bene Comunque Il fatto di attaccare Staccare In continuazione Non fa bene Neanche un po' Oh 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 Eccoli lì Qui è pieno di frecce L'hanno uccisi Oh 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 Guarda un po' Lassù Li devo attirare O provo a fare senza Lo stealth No Non so se è possibile Ma penso che sia fattibile Fare con lo stealth Buono Sono rapidi Eh questi Ok Oh 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 Ha funzionato Questo ha funzionato Perfettamente Penso che sia Un problema Di contatti Accadeva pure Ho dovuto cambiare Game capture Alla fine Cioè fammi capire Hai dovuto proprio Comprare un elgato nuovo Ma questa è nuova Di zecca Appena arrivata Cavoli Sarebbe un po' Un problema Dover Cambiarla Proprio ora Che è appena arrivata Perché se è un problema Proprio del Del dispositivo Che devo fare Il reso Per poi farmi venire Arrivare un nuovo È questo che intendi Perché è nuovo di zecca Si è ben chiaro Eppure qui sembra Funziona tutto Il collegamento C'è Ora l'audio Ora l'audio Se ne è andato Per un attimo Ma è tornato Pensavo più ai cavi E in grado Ah ok Tu pensavi più ai cavetti Ma anche i cavetti Vuol dire Sono nuovi Ci sono i due cavetti In dotazione A delgato E quello che sto utilizzando Che fa da collegamento Playstation E il gatto E quello della Playstation Che fino ad oggi Ha sempre funzionato Mamma mia Wow Quanti problemi Quanti problemi Qui il collegamento C'è E' a posto Vabbè Auguriamoci Che riesca a risolvere In qualche maniera Dai Auguriamocelo Qui non posso cadere Ok Quindi non posso andarci Proprio Qui come stiamo messi No Le vie non ti fanno capire Se sono rosse o meno Perché sono esterne Ma perché Eppure Boh Ora sta succedendo Un po' troppo spesso C'è qualcosa Che proprio Non mi convince Non mi convince Ma io non demordo Ho ancora tempo Io rimango in live ancora A costo di Rimanerci più e più volte Allora 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 Stacchiamo E riattacchiamo Ok Riavviamo Nessun segnale Ma adesso arriva Eccolo che è arrivato Ok E' tornato funzionante No Ho sbagliato Che poi Tra parentesi Ora Ah Interessante Ora mi fa tutto schermo Prima non me lo faceva Tutto schermo Perché Scusate un po' Un attimo Cattura Facciamo Togliamo il gatto Facciamo cattura gioco Proprietà Cattura Schermo intero No Allora facciamo finestra Cattura Cattura Finestra Finestra Specifica Certo Questa Tac Ok Ah ok Allora Prima non me lo faceva Ora si Ora mi Ora È a tutto schermo Ora ragazzi È a tutto schermo Prima non me lo metteva Tutto schermo Non capisco perché Cioè Finalmente Si è messo a posto Da solo Prima l'applicazione Non me lo metteva Schermo intero Sto catturando La finestra Non sto utilizzando Dispositivo Cattura Dispositivo Cattura video Perché io sto registrando Facendo cattura gioco Cattura finestra In questo caso E mi sta catturando Questa finestra Che penso che sia il modo Migliore di procedere Piuttosto di usare Cattura sistema video Anche se ho visto Molto i tutorial Che in realtà Funzionavano in questa maniera Che dovrei catturare L'elgato Tramite cattura Dispositivo video Però Ora Rispetto a prima Mi mette a schermo intero Vediamo se così funziona A sto punto Proviamo in questa maniera Mi auguro ragazzi Che voi lo vediate Perfettamente Ok Scarte arrugginiti Certo Antiche dimore Che queste sembra Un'antica chiesa A giudicare Dai dipinti Eh Ah Vattene Vattene Staccati da me Ok È morto Perfetto Tacc Crea munizioni Oh Quante volte me lo deve ridire Crea munizioni Forse mi conviene togliere Dalle opzioni Allora Gioco interfaccia Tutorial Mi rassi Il fatto che Attivo Risattiva Tutorial Ma il tutorial Visto che è la prima run Mi servono Assolutamente Tutorial Scusate Scusate un attimo Mi stava scendendo La sedia Ok Torniamo un attimo A OBS Sembra che stia Andando tutto bene Stavolta il dispositivo Me l'ha catturato Per intero Sì Non capisco perché Non capisco come mai Prima non me lo faceva Questa cosa Vediamo un po' Se faccio così Sì Ha 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 Ah Interessante Se faccio così Sì Ah ok Ok Era una cavolata Ora ho capito Ora ho capito come funziona Era una cavolata Alla fine Davvero una cavolata Così funziona bene Semplicemente La finestra La devo ottenere Usi per caso Avermedia Perché si può catturare il gioco Direttamente su OBS Senza aprire finestre extra No Sinceramente Non ho neanche mai sentito Questo sistema Di cattura video Se è un sistema di cattura video Eh no Non lo uso quello Comunque Comunque ora Sembra funzionare Bisogna vedere Quanto riesce a reggere Teniamolo così E vediamo un po' Cosa succede I paesani Purtroppo Poveretti Sono stati uccisi tutti Allora di qua Ci siamo stati Va bene Di là c'è il passaggio Qui Oh 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 Cosa c'è di speciale È chiusa Serve una chiave speciale No Non entra in questa serratura Proviamone un'altra Chiave di ferro No Proviamo al Sina Neanche Cos'è Un grimaldello Serve Sentiero solitario Ponte elevatoio Certo No Qui Mi sa che ci serve Una chiave speciale Allora Un'altra tipo di chiave Allora procediamo Parte un nuovo video Quando apri I video classici Nei vecchi resident evil Quando aprivi le porte Sono stati sostituiti Da questo Ma sono nelle porte Che Ti Identificano Ecco Solo la prima volta E solo quando passi Da un'area Maggiore a un'altra Per il resto Le porte si aprono In maniera del tutto normale Siamo tornati al villaggio Quindi Eh sì Qua c'è l'altare Infatti Ma guarda chi c'è Che intendi Come sembra dire Mia figlia E poteva Testa Sta scherzando Vero Ma La dentro La testa Non può È andato via L'audio Per un attimo Ci sono comunque Dei piccoli problemi Audio Ti prego Continua a funzionare Il gatto Forza 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 Hai ragione Walden Sai Mi sa che è proprio Un problema Di collegamenti Sai Sai Sì Sì Sei Insane As a house With a red Chimney On the western Side Of the village Go and seek out The man who lives There And we can Continua Conversation Quit holding out And get to the damn Point Dai forza Finora almeno L'audio Edva bene Oh Qui va L'audio Vai e viene Il video rimane Ma va via L'audio Adesso Ma sarà possibile Andiamo Questo è l'unico Che può esserti amico Allora Noi siamo arrivati Da questa parte Diamo un'occhiata All'altare E dobbiamo Posizionarci Qualcosa Vero Ah E dobbiamo Posizionarci I vari Flaconi Ma guarda Un po' Siamo stati Attaccati Da lei Quella notte Dobbiamo Posizionare Tutti gli altri Flaconi Madonna mia Però Cioè Fatemi capire Hanno fatto Già pezzi Nostra figlia È orribile Come cosa Borsello Del duca Allora Vendiamo Questo Dimitrescu Pesce Pesce No Per ora Non lo vendo Ecco che Di nuovo Si è bloccato Ho qui Delle novità Per te Signor Winters Che cavolo Però Proprio È Tragica La cosa Ragazzi Tragicomica Anzi direi Questa cosa È tragicomica Non riesco a capire Perché Faccia così E io che ero Tutto casato E ho detto Sì Mi è già arrivato Perché ho ordinato Giusto ieri Legato Mi è arrivato Nel giro di un giorno Perché ho fatto Il prime E adesso Ho questi problemi Tecnici Che non mi Sarei mai aspettato Sinceramente Allora Vari potenziamenti Adesso posso Potenziare Le armi Ancora di più Per le risorse Cosa abbiamo Wow Bagaglio extra Da 30.000 La fabbricazione Delle bombe artigianali Varie bombe Si può vendere Le singole componenti Bono Cos'è questo? Foggia guancia Parte modificata Parte modificare Per fucili di precisione Stabilizza la mira Cacchio però Costa ben 20.000 Questo costa ben 20.000 Poi abbiamo Mirino telescopico Parte e aumenta L'ingrandimento Del mirino Devo dosare bene Quello che voglio Prendere o meno Per esempio Facciamo qualche potenziamento Perché no? Potenziamo la pistola Al massimo Per ora Anche una cadenza Di tiro E la capacità Dai Capacità di questo Poi Queste per ora Non ce n'è bisogno Risorse Mi conviene Prendere Qualche Ma no Sei ribloccato Di nuovo Eh vabbè Però Dai Ma perché? Perché fai così? Non ha senso Che tu faccia così Forza Forza No no È proprio L'applicazione Non funziona Infatti Sta cosa non ha senso Secondo me Forse Perché C'è qualche impostazione Un po' particolare Va in contrasto Con qualcosa Penso che puoi catturare Il gioco Da game capture A OBS Senza passare Per il cattura finestra Oppure È un problema Di OBS Eh sì Boh non lo so Come posso catturare Il gioco Da game capture A OBS Direttamente Senza fare Il cattura finestra Se me lo spieghi Provo a farlo direttamente Anche perché Appunto Catturare il dispositivo Direttamente È quello che volevo Fare dall'inizio Ma mi fa schermo nero Cioè non me lo cattura Da game capture E questo è il fatto All'inizio Io seguendo il tutorial Volevo Eh Capturare L'immagine Direttamente Dall'elgato Un'olta collegata A tutto quanto Eh Boh Tramite Eh Dispositivo Eh Vedi Quello Intendevo Io all'inizio Ci provavo A farlo Ma non me lo fa Ci riprovo Vediamo un po' Allora Questo Lo rimuovo Che tanto non serve Proviamo Fonti Aggiungi Dispositivo Cattura video Una nuova fonte Game capture Ok Però non c'è niente L'immagine è nera E non capisco come mai Ho immagine completamente nera E anzi Se faccio così Rischio che OBS Crashi L'altra volta Ci ho provato Fino adesso E quando provavo Fa questa cosa OBS crashava Addirittura Smetteva di funzionare Forse la fonte Già presa dalla finestra Da dove registravi prima Il problema è che La finestra di prima Adesso l'ho rimossa E ho bloccato Cioè adesso Quello l'ho bloccata Non lo sta utilizzando Quindi Boh Provo a rimuovere Da cattura Gioco A posso capire Anche a me Dava tutti questi problemi Alla fine Ho preso una game capture Super semplice Ma che non mi ha ancora Dato problemi Sì però Sinceramente Un po' mi secca L'ho appena acquistata Questo è il gatto Cioè che faccio Devo rimettere tutto a posto E fare il reso Perché non ha È un casino In tal senso Cioè dovrebbe essere Il top di gamma Perfetta Ho visto un sacco di tutorial Di gente che funziona Perfettamente Perché a me Non dovrebbe funzionare Allora Ora Stacchiamo Riaccendiamo Aspetta Tac Ok Riavvio Ok Ci sono Il dispositivo c'è Ok Ha ripreso il segnale Ora vediamo un po' Proviamo Aggiungo Dispositivo a cattura video Tac Game Capture Ok Ma no Non compare Sai una cosa Mi dice 4K 4K Computer Utility Sta utilizzando La webcam Però il dispositivo Che uso Di la webcam È la Logitech Per appunto È OBS Che sta utilizzando La webcam C'è qualcosa Che secondo te Va in contrasto Con il sistema E non mi permette Di utilizzarlo Sta cosa proprio Non riesco a capirla Vuoi qualche impostazione Di Game Capture OBS In dispositivo cattura video Perché Configurazione video Se clicco Non mi fa niente Configura la crossboard Uguale Non mi fa niente Tipo di risoluzione FPS Predefiniti Spazio colore Predefinito Riconoscimento automatico Del buffering Predefinito Automatico Non so Sinceramente Dove andare a parare Rimuovi va Oh no Ho come un brutto presentimento Mi sei bloccato La live Vero? No Forse la live Non è ancora bloccata Allora Non saprei Cosa che so Che usa il Game Capture Come fonte video esterna Contrasti o meno Non so come aiutarti Vabbè Non ti preoccupare Io lo so Cos'è successo però Si è bloccato la live Vedi? Vabbè 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 Grazie. 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 Grazie.